E anche Bitonto è pronta ai riti della settimana santa con la preparazione della Vergina Dolorata e delle sue 111 candele, il servizio di Alba Di Palo. Avvitano bulloni con precisione, scrutano con gli occhi e una livella se tutto è a posto, controllano ogni dettaglio affinché lei, Maria Dolorosa, abbia la forza della staticità per seguire nel venerdì di passione il figlio appeso in croce. A Bitonto nel Barese la preparazione della processione dei misteri inizia con largo anticipo perché prevede che la Madonna dal manto nero sia circondata da 111 candele che hanno un preciso significato. La Vergine è circondata da 111 candele, non una di più, non una di meno. Perché 111? Perché il numero allude a Dio che è uno e trino. Si tratta anche di candele particolari dalla forma particolare che fa colare la cera perché queste candele sono comunemente dette le candele del pianto che devono simulare il pianto della Vergine. Qui nella chiesa di San Domenico Nicola e Giuseppe hanno lavorato per giorni rispettando un copione fissato nell'Ottocento quando alla Passio Cristi si è aggiunta la passione della Madre del Signore. Sono loro due, passato e futuro della tradizione pasquale, a sistemare, montare, stringere i viti e posizionare il simulacro mariano perché sia pronto. Un lavoro minuzioso fatto di impegno e devozione. Preparare con la cera, mettendo prima la piramide attorno, poi mettere la Madonna, togliendo la parte di dietro, mettere la Madonna, fissarla bene per il cammino e poi cominciare a mettere le candele attorno attorno. Io provo tanto, l'ho portato 35 anni e provo tanto per portare la Madonna, mi sento emozionato. La fede si rinnova così a due anni dallo stop dettato dalla pandemia e riporta il Paese alle origini della devozione. Queste processioni però hanno un significato precipuo non soltanto per i confratelli e le consorelle ma sicuramente per l'intera comunità. Sono proprio espressione della identità civica.